A voi telespettatori, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con le informazioni di Super TV Oristano. In primo piano la cronaca. Tragedia sfiorata la notte scorsa a Oristano. Il pezzo di un cornicione di uno stabile della via De Castro è caduto a terra sfiorando un passante. L'uomo, visibilmente spaventato, è stato soccorso dal proprietario di uno dei bar della via che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Oristano che hanno messo in sicurezza il cornicione del palazzo. Posta sotto sequestro una residenza abusiva realizzata nella zona di Fenoso. Sentiamo i dettagli. È stata posta sotto sequestro venerdì 14 dicembre ad opera del corpo forestale una residenza ritenuta abusiva realizzata nella zona di Fenoso su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano. Per i reatti contestati al proprietario dell'abitazione la norma urbanistica prevede la demolizione o la confisca del fabbricato e del lotto oltre alla pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.000 a 51.000 euro. Nel 2011 il proprietario aveva ottenuto l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale per la sola realizzazione del muro di recensione del terreno agricolo e dalle indagini svolte dagli uomini della forestale era emerso che aveva presentato agli uffici la richiesta di accattastamento per la fabbricazione di alcuni locali di servizio destinati alla scuderia, al deposito attrezzi e ad alcune tettoie. L'esame delle foto aeree realizzate in tempi diversi ha consentito inoltre agli uomini della forestale di riscontrare diverse modifiche apportate nel tempo ai locali di servizio. Il PUC del Comune di Oristano prevede che per l'edificazione nelle zone agricole di fabbricati a uso abitativo si disponga di un lotto minimo di 3 ettari sia per gli imprenditori agricoli professionali sia per chi svolge attività agricola non professionale. In questo caso i proprietari del terreno sono privi del requisito di imprenditore agricolo professionale e il lotto è di estensione nettamente inferiore a quella minima prevista. Si avvicinano sempre di più le vacanze natalizie. In aumento i controlli della Polizia di Stato. Vediamo. Prosegue l'impegno della Polizia di Stato nell'attività di vigilanza e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria. Intensificati inoltre i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Anche in occasione delle eminenti festività natalizie di fine anno infatti non si abbassa il livello di guardia degli uomini della questura di Oristano per assicurare il sereno svolgimento delle iniziative pubbliche relative a tale periodo nel capoluogo e nei comuni della provincia. Giovedì 13 dicembre gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico hanno fermato un'auto sospetta con a bordo due giovani. Uno di questi, al termine di un controllo più approfondito, è stato trovato in possesso di 23 pastiche di ecstasy. Portato in questura, il ragazzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre sono stati contestualmente disposti servizi di controllo negli esercizi commerciali e nei locali di pubblico intrattenimento. Ad un esercizio commerciale dedito alla sommestrazione di alimenti e bevande con annesso corner per la raccolta delle scommesse sportive, è stato contestato di non aver ottemperato la dovuta comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessazione delle attività di raccolta delle scommesse. Sono stati inoltre effettuati mirati servizi di controllo nei confronti di strutture ricettive, commerciali e locali di intrattenimento, oltre che strutture ricettive e di aggregazione e stazioni di trasporto. Sono state controllate 8 autovetture identificate 76 persone di cui 34 estracomunitari. Tre cittadini estracomunitari sono stati accompagnati in questura per l'accertamento della loro posizione nel territorio italiano e una persona di nazionalità nigeriana è stata deferita in stato di libertà per la mancata esibizione del titolo di soggiorno. Il Ministero della Salute rende noto che è stato disposto il sequestro di un loto di cozze commercializzate dalla CPA Arborea con la denominazione Nieditas, cozze raccolte nel Golfo di Oristano, dopo aver accertato la presenza del vibrione di colera. Sono state effettuate le analisi. A tutela della salute del consumatore, l'Asio di Oristano ha immediatamente sospeso la raccolta delle cozze nell'allevamento da cui proveniva il lotto analizzato, consentendo la commercializzazione di prodotti proveniti da allevamenti diversi. Cambiamo argomento. per l'aeroporto di Fenoso una nuova situazione di stallo. Si separano i soci. Sentiamo il punto di Paolo De Solus. Nei giorni scorsi nella cronaca locale della Nuova Sardegna era riportato un ampio servizio di Enrico Carta che dava conto dell'ormai prossima divisione dei soci e quindi dell'asse societario che dopo tormentate vicende si era aggiudicato lo scalo di Oristano Fenoso. Tormento che non si è concluso se nei prossimi giorni verrà posta fine ad una esperienza neppure avviata dal punto di vista dei ritorni operativi e di quelli afferenti la realizzazione di una quota pur minima di attività. Deserto era e deserto resta, tranne la parte occupata dalla Polizia di Stato che ha di fatto ne ha militarizzato una parte. Eppure i presupposti iniziali c'erano tutti un imprenditore privato che aveva rilevato l'azienda Aeronike con base operativa nell'aeroporto di Elmas dopo la scomparsa del titolare il comandante Elio Zonchello di Sedilo che ne aveva fatto un'azienda modello e che nella seconda metà degli anni 2000 aveva chiesto alla provincia di Oristano, allora titolare quasi esclusivo del bene, di poter trasferire a Fenoso la base operativa dell'azienda senza ottenere risposta alcuna. L'altro partner era e fino alla separazione il distretto aerospaziale della Sardegna che ha compiti di ricerca e fa capo al consorzio ricerche CSR4 e all'Università di Cagliari, interessi che probabilmente non hanno coinciso anche in relazione ad un mercato interessante ma complesso dove tutte le iniziative e le attività sono da impostare compresa la ricerca di spazi operativi in grado di produrre ritorni. Per Fenoso nuova situazione di stallo con problemi del passato ancora da risolvere e una penalizzazione politica che lascia un segno profondo che non pare evochi preoccupazioni su quanti hanno avuto le mani in pasta nella gestione di Fenoso e della società di gestione sciolta con un buco di oltre 6 milioni di euro. Sabato 15 dicembre si svolgeranno ad Arborei i funerali di Andrea Sanna il giovane motociclista di 19 anni morto all'ospedale Marino di Cagliari in seguito alle gravissime ferite riportate nell'incidente avvenuto avanti ieri sera nel centro del paese. Il rito funebre è previsto per le 15 nella chiesa parrocchiale dove la Salma arriverà poco prima di mezzogiorno per consentire a quanti lo vorranno di rendergli omaggio. Il sindaco di Arborea Manuela Pintus ha annunciato il luto cittadino. Passiamo a parlare di sanità. Riativo al servizio di patologia neonatale. Soddisfatto il presidente dell'Ordine dei Medici Antonio Sulis. Sentiamo. È proprio così. Dopo la tempesta arriva il sereno. A quanto pare il problema, per essere precisi, la carenza di personale sanitario è stato risolto. È stata infatti ripristinata a pieno l'attività della patologia neonatale all'interno dell'unità operativa di pediatria all'ospedale San Martino di Oristano. Tale attività non è mai stata sospesa totalmente, ma nelle scorse settimane la presa in carico di alcune patologie era stata demandata ad altre strutture ospedaliere dell'isola, per motivi legati alla temporanea carenza di personale infermieristico e al necessario rinnovo di alcune attrezzature. Lo ha reso noto l'Ase di Oristano. L'Ordine apprende con piacere la notizia della riattivazione del servizio. Si dichiara pienamente soddisfatto Antonio Sulis, presidente dell'Ordine dei Medici di Oristano. Le neomamme e papà possono nuovamente tornare ad affidarsi con fiducia e sicurezza ad un servizio che da sempre opera con altissima professionalità ed efficienza, ha affermato Sulis. L'Ordine, dal canto suo, continuerà ad occuparsi attivamente di tutto ciò che riguarda la sanità oristanese, che presenta ancora, purtroppo, numerose importanti criticità dovute prevalentemente alla carenza di personale. Soprattutto il presidio ospedaliero San Martino va riportato ad un adeguato livello di attività e funzionalità affinché sia in grado di rispondere alle numerose necessità del territorio, ha continuato Sulis. Ci attendiamo che ATS e la politica regionale siano capaci di dare in tempi rapidi le risposte che gli oristanesi aspettano da tempo, così come è stata rapida questa volta la risposta all'emergenza della pediatria neonatale. Il Comune di Oristano ha messo in pagamento due mensilità dicembre e gennaio del REIS, reddito di inclusione e progetto a Giudu Torrao per l'analità 2018-2019. Per la riscossione del contributo i beneficiari devono recarsi presso la banca Unicredit presentando il documento di identità e il codice fiscale. Per altre informazioni e per consultare la propria posizione ci si può rivolgere all'URP del Comune di Oristano. Il treno delle elezioni, il punto di Paolo De Sogus sulla situazione politica isolana. Sentiamo. Se nei giorni scorsi le metafore che scandivano la situazione politica regionale erano quelle dei treni in transito sui quali dovevano salire le truppe in arruolamento da ambo le parti in vista delle elezioni regionali, i termini e le regole appaiono mutati guardando alla configurazione dei due principali schieramenti si ritiene che possano inserirsi termini e riferimenti di natura calcistica. Infatti sia il centro-destra che lo schieramento di centro-sinistra allineano ben 22 tra partiti stagionati, alcuni al limite dell'esistenza, gruppi e movimenti che si propongono in continuazione, alcuni frutti solo della fantasia degli ipotetici leader. 11 giocatori per parte e quindi la squadra è fatta anche se mancano ancora quelli destinati alla panchina ma soprattutto a sinistra giurano che sono in atto trattative per completare ed estendere la rosa messa e creata intorno a Massimo Zedda. Si temporegge e si corteggiano pezzi diversi del modesto firmamento politico sardo ed in attesa di concludere il fisco iniziale della partita non c'è ancora. Infatti le elezioni regionali dovrebbero tenersi entro il mese di febbraio del 2019 ma ancora manca la data ufficiale che deve essere decretata dal presidente della giunta regionale. Non lo ha ancora fatto, segno che nel PD, partito di appartenenza del presidente Pigliaru, il percorso non è ancora chiuso considerando anche l'ampliamento concettuale del centro-sinistra con gli appellativi di progressista e autonomista che dovrebbero raccogliere nuove isperate adesioni. Torniamo ad Oristano. Sono state 5 le proposte presentate dai cittadini sul piano urbanistico della mobilità del comune. Sentiamo. Il piano urbanistico della mobilità presentato qualche giorno fa dal sindaco Luzzo e dall'assessore Tarantini che vedeva diverse proposte in merito alla viabilità di pedoni, ciclisti e trasporti privati e pubblici è passato al vaglio dei cittadini in una seduta preseduta dal presidente della commissione Davide Tatti. Sono state solo 5 le osservazioni proposte. La prima, approvata con 18 voti, vedrà l'inversione del senso di marcia in via dei 1000 e limiti di velocità più bassi in via Carboni e via Messina. Respinte invece la richiesta di consentire il passaggio dei veicoli nella ZTL senza limiti di orari e la sostituzione dei parcheggi a pagamento con zone disco. L'hotel Mistral ha proposto la modifica dei sensi di marcia nelle vie 20 settembre e Cavour, ma anche questa è stata rispinta. La stessa sorte è avvenuta alla richiesta della Confcommercio circa la realizzazione di infrastrutture come parcheggi prima di procedere all'ampliamento delle aree pedonali della ZTL. Infine, il comitato di Via Lepanto si è detto contrario al progetto circa la zona di Piazza Mariano e proponeva il mantenimento dell'attuale piano di viabilità, ma anche in questo caso il no è arrivato con 15 voti contrari, 6 a favore e 3 astenuti. Lunedì 17 dicembre si proseguirà con l'esame degli ultimi emendamenti. Lunedì 17 dicembre alle 15.30 il consultorio familiare di Oristano ospiterà l'incontro dedicato all'alimentazione complementare guidata dal bambino, una modalità di introduzione dei cibi alternativa al rigido schema dello svezzamento. Scopo dell'appuntamento è quello di illustrare ai futuri e ai neogenitori le differenti modalità di introduzione dei cibi nell'alimentazione del piccolo, accanto al latte materno, in modo tale che ciascuno possa scegliere quelle che si addice alle proprie abitudini e alla propria cultura. Ci spostiamo a Macommer, festeggiati 103 anni di Tio Nino Sanna, uno degli ultracentenari. Sentiamo il punto di Piergavino Vacca. Tio Nino Sanna al secolo Saturnino è nato nel 1915, proprio all'anno in cui l'Italia entrava in guerra e migliaia di sardi, inconsapevoli di quello che andavano a fare, partivano per il fronte. La sua storia si incrocia con quella della città. Tio Nino fece il ferroviere presso le ferrovie complementari, proprio in una di quelle strutture che fecero la fortuna della città. Esonerato dal servizio militare, proprio perché impiegato nei trasporti, non scampiò al terribile bambardamento del 1943, che vide tra gli undici morti della città qualche suo collega. E proprio con il suo lavoro nelle officine della ferrovia collaborò alla ripartenza della strada ferrata, in un certo qual modo alla ripartenza della vita nella città. C'è chi può vantare grandi ricchezze o grandi conquiste, ma pochi possono vantare il traguardo di 103 anni, circondato da tanti parenti e figli, nipoti e pronipoti e di amorevoli cure. Né ricche crociere, né sfoggio di macchina lusciosa, ma una vita tra l'affetto e le cure di chi ti vuole bene. Non è da tutti. Con soddisfazione Tio Nino ricorda le passeggiate in campagna alla ricerca di funghi, Santunna, il fungo nazionale macomerese, un modo diverso di essere ricco. Il prezioso tesoro di Tio Nino è quella di essere arrivato oltre il secolo, a casa sua, con una salute più che passabile e la memoria lucida. Unico rimpianto, la moglie che lo ha lasciato 13 anni fa. Satunnino sana, con i suoi 103 anni, si aggiunge alla piccola schiera di oltre centenari di macomerca, peggiata da Biancacciaccio, con 105 e altri 3, a dimostrazione che il DNA dei sardi, anche a Macomer, promette bene. Tio Nino è stato festeggiato il giorno del suo compleanno, il 10 dicembre, dal sindaco Antonio Succo e dalla Giunta, a nome di tutta la città, oltre ovviamente a tutto lo stuolo dei parenti. Torniamo ad Oristano, l'importanza della ceramica. Se ne è parlato stamattina in comune. Vediamo. Si è tenuta stamattina nella sala degli evangelisti del Palazzo degli Scolopi a Oristano la tavola rotonda intitolata Mister Potteri e Lady Maiolica. L'iniziativa, inserita nel programma del Tornio di Via Figoli, giunto alla decima edizione, ha visto come oggetto della discussione e del confronto tra i presenti le opportunità offerte dalla ceramica, sia sotto l'aspetto economico, sia culturale. Sono stati trattati infatti temi legati alla lavorazione e produzione di manufatti in ceramica, ponendo l'accento sul ruolo che questi hanno nella promozione turistica del territorio, evidenziandone l'importanza della conoscenza. Presenti in aula l'assessore Pupa Tarantini, il sindaco Andralluzzo, Giuseppe Sanna, ambasciatore dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, Diego Corrias, assessore del comune di Assemini, Marco Franceschi, direttore di Confartigianato Ristano, Giuseppe Melis, docente di marketing turistico Università di Cagliari, più tanti altri esperti che hanno mostrato come e quanto sia importante mantenere alta l'attenzione verso un patrimonio così fondamentale per la cultura di Oristano. Torniamo ad Oristano, lo sport come medicina. Stamattina si sono svolte presso l'Istituto Mossa le speciali Olimpiadi. Vediamo. Oristano, capitale degli sport paralimpici per un giorno. Questa mattina l'Istituto Mossa ha una giornata di inclusione che ha visto coinvolti più di 300 studenti impegnati in percorsi psicomotori, partite di calcetto, basket, ma soprattutto dal giocare insieme per condividere responsabilità e momenti speciali. Una giornata di inclusione sociale, grande partecipazione delle scolaresche, di diverse realtà provinciali, infatti abbiamo la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ottimo lavoro da parte dei dirigenti scolastici e in particolare dei docenti che hanno organizzato il tutto. L'obiettivo della giornata è l'inclusione scolastica, sociale attraverso lo sport. Durante tutta la mattinata ci saranno delle partite di basket, di calcio a 5 e dei percorsi motori per tutti i ragazzi. All'interno della squadra, la squadra è composta da ragazzi con disabilità e normodotati. Insieme si divertono, insieme giocano e insieme continueranno poi le loro attività scolastiche, proprio perché hanno condiviso determinate attività, sempre attraverso lo sport. La manifestazione è stata organizzata oltre che dal comune di Oristano e dall'ufficio scolastico provinciale, anche dal movimento globale Special Olympics. Abbiamo iniziato con i percorsi, i psicomotori, dove i bambini delle scuole elementari si sono prodigati nel fare slalom, giocare con la palla, eccetera. Ed è stato bellissimo vedere come i compagni senza disabilità accompagnassero i propri compagni con disabilità a fare il percorso. Abbiamo avuto specialmente una ragazza che ha bisogno del deambulatore, che è Marta, che aveva due compagnette che la accompagnavano per tutto il percorso. Delle scene che nella vita quotidiana è raro a vedere. Abbiamo raccolto diverse testimonianze ed esperienze questa mattina. Sì, mi diverto molto. Sono un bravo cannoniere e sono molto contento. Lo dedico tutto alla mia attrice che si chiama Lella. Cosa fai oggi qua al Mossa? Ho fatto calcio. Ah, ti sei divertita? Sì. Avete vinto? Sì. Ti piace venire a trascorrere delle giornate tipo questa, dove ci sono tante persone, ti diverti? Sì, moltissimo. Antonio, tu che hai una carissima amica che ha una malattia degenerativa, in base alla tua esperienza, cosa significa trascorrere una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia? Sì, è una giornata che accomuna normodotati e persone affette da disabilità, quindi rende divertente lo sport più semplice come calcio, basket o pallamano o semplici percorsi, per dare uno spazio di felicità in più a queste persone con disabilità e noi, normodotati, dobbiamo riuscire sempre a coinvolgere queste persone per far sì che siano più contente e vivano meglio. Colloqui all'Istituto Don Deodato Meloni, noi 17, toccherà alle classi del servizio socio-sanitario e odontoiatrico. Le classi delle terze quarte e quinte dell'alberghiero e le classi dell'agrario sono programmate per martedì 18 dicembre, mentre mercoledì 19 dicembre si svolgeranno quelle delle prime e delle seconde classi dell'alberghiero. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione di Super TV Oristanio, vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.